Bella raga, sono Femme Marulli e siamo al video di oggi e faremo le spiegazioni del nuovo evento di Pokémon GO. Ci sarà in questo evento nuovi Pokémon di tipo acqua ma della regione di Oed, come Milotic, ma anche altri. Ma ci sta anche un Pikachu che sa fare la mossa surf. Quindi preparate Pokémon GO, preparate le bacche e andate alla cattura, scappa. Andiamo a catturare, andiamo, andiamo, andiamo. Comunque raga vorrei salutare in questo video Patrick di me, Patrick Basileo, il vostro caro Mike e, infine, Michele Fregona. E quindi raga ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!